Perchè non viene qui? Le persone non vogliono perdere il proprio lavoro e poi è normale avere paura. Mi stai dicendo che il giorno in cui è stato visto sporco di sangue è il giorno dell'omicidio, coincidono. Vandana ha chiamato tutti i giorni dallo Sri Lanka. Da quel momento i telefoni hanno cominciato a non funzionare più. È vero. Quel giorno Vandana ha chiamato anche me, chiedendo di amare. Allora ho visto in televisione questa notizia. Come ti metti a fare il piano? Chi è la parte del piano? Tata, che vado a dare a me? E' come me, ipote? Tata, che vado a dare a me? 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 No, 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 no. Pronto? Ammal? 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 Hai una domanda? Ammal? Vistar passakya, Annamandara Vandang è iniziato a curare Vandang è iniziato a curare Vandang è iniziato a curare Ma… Paolo da, Vittar. Vittar, Anni e a vissan! Vittar 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 Ngi C'è un' percorso Ammal? Vittar Vittar Ma hai niente bene d'attia che di vila di anni. Mi non hai niente. Mi non ho fatto. Ma che ho fatto. Mi non hai niente. Inna, inna. Ma di noi vede anche. Hai. Mi non ho fatto. Mi non ho fatto capire. Ma ho fatto. No, 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 no. che si trovi il giotico sull'acqua è un'altra cosa come si sono nascita la mia vita ma non c'è un po' non c'è la mia vita si c'è l'unico non c'è la mia vita non c'è la mia vita che non c'è la mia vita non c'è la mia vita ma non c'è la mia vita io non è proprio il nostro lavoro non è un'immagrazione però il nostro lavoro non è molto più strano è un lavoro temerlo a lecce sti, 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 un'alto non so cosa sti sti, sti, sti sti sti, 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 sti No, non ho capito, non mi ha fatto capire, non mi ha fatto capire. Amar, non mi piace, non mi piace. Non ti piace. E quindi, non mi piace. Cosa, non mi piace. Non mi piace, Amar. no non si è andato io non 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 a te che tuvi. a lì vediamo e se Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Ce n'è l'esercice che si fa intano il nostro locale... ... ma inizio anche inizio sulda. Non so l'esercice di noi. C'è l'esercice di aver guardato il nostro messaggio. Ci sei, c'è qui l'esercice. Ci siete a volo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.